lui mi rimboccava le coperte solo allora si sedeva al mio bianco e con il pollice e l'indice strappava dalla mia testa i brutti sogni perché un anno è lungo ecco qua e 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 ciao ragazzi grazie di essere qui con me oggi oggi siamo già arrivati pazzesco all'ultimo video dell'anno ebbene si oggi 30 dicembre 2019 ci sarà vedrete l'ultimo video di di quest'anno del mio canale e vi sto già facendo lo spoiler di un trigger quanto mancavano guardate che ho con me per questo video guardate che ho con me per questo video non solo un gelatino ma ben due nuovi gelatini hanno proprio il rumore del gelatino fresco fresco tutto croccante infatti penso ne userò solo uno perchè voglio mantenerli tutti e due belli freschi non saprei come dire con il suono ben croccante ok allora comincio col dire che so che scusate per la mossa del collo so che molti di voi si aspettavano un video uguale all'anno scorso con i 5 trigger preferiti del 2019 ma non mi piace troppo ripetermi non nelle stesse salse quindi avevo pensato a un video dei miei 5 trigger preferiti del 2019 però poi c'era un trigger che non vi avevo mai mostrato da cui mi piacerebbe insomma dedicarci un video e quindi ho raggiunto stare anche questa idea e quindi oggi sarà un video molto semplice con diverse parti due parti principali la prima sarà un resoconto mio del 2019 soprattutto con parecchie riflessioni ecco ma può essere anche un'occasione per conoscermi meglio per chi è nuovo sul canale e la seconda parte sarà una cosa diciamo trigger per cui ho preso ispirazione da un libro che è questo ve lo faccio vedere subito e le corrispose di Khaled Hussaini spero si legga così il nome che è lo stesso autore del Cacciatore di Aquiloni e di i mille splendidi soli libri che ho adorato ha fatto solo tre libri ma con questi tre libri ha sbancato e magari vi parlerò un'altra volta di questo libro però appunto verso la fine ieri sera ho letto una scena che mi sembrava molto smr che dopo vi andrà a leggere comunque sarà una specie di via i pensieri negativi questo qui il solito ci sarà molto di questo trigger ma ci sarà anche un qualcosa del genere così vi faccio solo questo spoiler e dopo vedrete cos'è quindi sarà composta queste due parti una più visiva e una un po' più di di chiacchiere e riflessioni con il gelatino la prima piccola curiosità tanti mi chiedevano un video con il gelatino non lo facevo da almeno due mesi penso forse anche di più e vedete che ho un gelatino nuovo questo perché non ve l'ho voluto dire ma l'ho perso o li ho persi entrambi io non so dove 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 li ho messi davvero perché non sono mai usciti di casa ma non li trovo li ho cercati ovunque non li trovo e quindi sono andata alla ricerca disperata di nuovi gelatini ma erano tutti 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 sold out follia e quindi dopo un po' sono andata a controllare e ce ne erano disponibili solo due solo azzurri e li ho presi subito subitissimo ero disperata ero disperata ragazzi ero disperata cioè senza gelatino dove andiamo dove vogliamo andare sai che mi piace tanto questo trigger quindi cominciamo con le riflessioni del 2019 non voglio tirarla troppo per le lunghe per la monta del cielo come chi mi segue insomma abbastanza assiduamente saprà il 2019 è stato l'anno in cui comunque sono successe molte cose nella mia vita prima di tutto questo canale è cresciuto tanto non mi ricordo onestamente quanto è cresciuto ma comunque siamo in tantissimi siamo quasi 700mila ed è pazzesco è assolutamente pazzesco è uscito il mio libro quindi già questo potrebbe bastare in realtà e ho fatto il mio libro sull'smr opportunità che non mi sarei neanche sognata di avere fino a poco più di un annetto fa e e mi sono laureata e ho ricevuto una proposta di matrimonio una la proposta di matrimonio dal mio fidanzato con questo insieme da otto anni e mezzo quindi storico della mia vita e un altro traguardo che ho raggiunto in cui tenevo tanto sono riuscita finalmente a viaggiare fuori dall'Europa perché ci tenevo veramente tanto a uno dei traguardi che volevo assolutamente raggiungere ma non è tutto rosa e fiori in che senso? partiamo dal presupposto che praticamente tutto ciò che ho ottenuto nel 2019 è stato frutto di ciò che ho seminato negli ultimi 4 o 5 anni anche di più quindi diciamo che non è stato il 2019 che è stato un anno in cui sono esplosa quindi ho dato il meglio di me quindi ho ottenuto tutte queste cose ma sono stati anni e anni di impegno di fatica di fallimenti che mi hanno portato poi al risultato tra l'altro ad esempio per quanto riguarda la laurea io mi sono laureato un anno dopo quindi al posto del quinto o del sesto anno per dirvene una quindi diciamo che praticamente per tutto ciò che vi ho detto quest'anno di quest'anno parte il libro però io volevo raggiungerlo nel 2018 quindi è stato un po' anche un'accettazione del fatto che non sono riuscita a raggiungere i miei obiettivi quando li volevo quando dovevo raggiungerli quindi la prima riflessione è questa ognuno se ci mettete impegno e passione e costanza nelle cose i risultati li avrete e soprattutto di non fare paragoni con gli altri di non dire ah vedi lui ha raggiunto quello lei ha raggiunto quell'altro io dove sono perché perché magari non prima queste persone erano nella vostra stessa situazione e poi ogni persona è diversa quindi ciò che vi voglio far capire è che intanto io devo dire la verità una volta raggiunti i treguardi bisogna porsene di altri subito io ho fatto un grosso errore nel attaggiarmi adesso ne sto un po' pagando le conseguenze a livello di vita privata quindi questa è la prima cosa quindi non non vi accontentate mai questo è il mio obiettivo per il 2020 altissimo e poi non vi paragonate mai gli altri non vi arrendete assolutamente perché soprattutto con la mia laurea io a un certo punto non ci credevo veramente più sono sincera quindi cadete tutte le volte che dovete cadere rialzatevi tutte le volte questo è il mio augurio più grande per voi per il 2020 di non arrendervi mai in tutti gli obiettivi che avete e di non paragonarvi agli altri non non paragonate mai i vostri successi a quelli degli altri non paragonate mai i vostri fallimenti ai successi degli altri mai 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 perché non ha assolutamente senso io io spero che il messaggio sia passato chiaro e limpido non voleva essere appunto un momento in cui mi fantavo delle cose che ho che ho raggiunto nel 2019 perché davvero queste cose che ho raggiunto sono state frutto anche di fallimenti e di cadute negli anni passati davvero 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 quindi ciò che vi auguro è di avere un sogno e di avere tanta passione per perseguirlo è tutto ciò che vi auguro e per quanto io non voglia scendere nel personale in questo video comunque anche io ho degli obiettivi diciamo personali nei 2020 molto importanti più che altro di appunto crescita personale spero davvero di fare dei posti avanti è tutto qui ora prima di passare alla seconda parte del video voglio lasciarvi con un minutino di suono del gelatino che poi tornerà per la buonanotte perché sapete che quando comincio suono non riesco più non bemmo anche se le persone non riesco più che per quello che fanno c'è qualcosa che non è molto è più interessante eccoci Sì. per questa seconda parte per i video mi sono avvicinato un pochino e ho aperto la pagina 387 questo pezzo si provoca nel capitolo 9 che si chiama Inverno 2010 e non so quando l'ho letto quando l'ho letto veramente ho subito subito pensato cioè che scena è? pazzesca quando ero bambina condividevo con mio padre un rituale serale io recitavo le mie 21 bismallah lui mi rimboccava le coperte solo allora si sedeva al mio fianco e con il pollice e l'indice strappava dalla mia testa i brutti sogni le sue dita saltavano dalla fronte alle tempie frugando pazientemente dietro le mie orecchie e poi sulla nuca e per ogni incubo di cui montava il mio cervello faceva un pollice come quando si strappa una bottiglia infilava i sogni uno per uno dentro un sacco invisibile che teniva in crembo e che sarrava stretto tirando una punicella poi per lo stravalare alla ricerca dei bei sogni che dovevano sostituire quelli brutti che aveva catturato lo salvavo mentre con la testa leggermente china accortava la fronte e i suoi occhi vagavano da un punto all'altro della stanza come se si sforzasse di sentire una musica lontana tratteneva il respiro aspettando il momento in cui la fazza di mio padre si sarebbe offerta in un sorriso e lui avrebbe esclamato ah eccone uno per poi lasciare che il sogno atterrasse nelle sue mani a coppa con un petro che si stacca da un albero e cade volteggiando lentamente allora con dolcezza con estrema dolcezza mio padre diceva che tutte le cose buone della vita sono fragili e svaniscono facilmente posava le mani sul mio viso e le strofinava sulla fronte perché vi penetrasse la felicità cosa sognerò questa notte baba? chiedeva ah questa notte beh questa notte è speciale diceva sempre prima di raccontarmi il sogno inventavo nastarelli per lì in uno dei sogni che mi regalava io ero la pittrice più famosa del mondo in un altro ero la regina di un'isona incantata e avevo un trono volante mi aveva regalato per si non sogni in cui si parlava del mio dolce preferito la gelatina di frutta diceva che quando l'era bambino suo padre si era dell'umore giusto lo faceva sedere di fronte a sé cosa che non capitava spesso e gli raccontava la fiaba è popolata di Jin di Vod e di Tim ok e questa era la parte appunto che vi diceva molto sml da qui ho preso l'idea per questa parte di video e e l'eco ris pose quindi perché ho pensato di fare questa scena proprio stasera perché ho pensato di prendere dalla fronte dalle tempie da dietro gli orecchi sulla nuca tutto ciò che non vi è andato a genere di quest'anno tutto ciò che volevate fare meglio tutte tutte le cose che volete fare che alla fine non avete fatto per tutti i motivi possibili e immaginabili e poi voglio prendere dall'aria delle cose positive dei buoni propositi che avete per il 2020 e premere bene sulla vostra fronte in modo che vi entrino nella testa e che abbiate tutto il coraggio la voce la passione la determinazione per farli per farli avverare per fare in modo che avvengano questi buoni propositi siano effettivi quindi io comincerei cominciamo da qui ecco eccolo qua lo mettiamo nel sacchetto ok? e poi ancora qui lo mettiamo nel sacchetto ok? ok e poi ancora qui sono lo mettiamo nel sacchetto e poi e poi i ti vedo la testa perché ultimamente non l'ho mai fatto va sempre fatto un po' suonambrante, non l'ho mai fatto mai fatto un po' suonambrante, non l'ho mai fatto mai fatto un po' suonambrante ok ecco un altro e viene il secondo eccoci, ci ne sono tanti eccolo ah questo vedo che vedo che il demicio non è andata bene questa cosa ma adesso la togliamo e vedrai che ecco qua e via ecco ecco, ecco e un altro guardiamo meglio guardiamo meglio qui Vieni il sacchetto Io direi che Più o meno ci siamo Sono i dieci Dici che Ne devo cercare almeno un altro Giusto? Ok? Adesso lo cerchiamo bene Magari è nascosto Da qualche parte che non si voleva trovare Ma non ti preoccupare Io ho molte esperienze in queste cose Nel progettare i pensieri Ok? Non ci sono proprio pensieri Però Non ti preoccupare Adesso ci penso io Andando un po' alla ricerca E' un po' di pazienza vero? Per cercare Per l'ultima cosa Ok? Ok Mi senti che io sto cercando veramente Per tutto Se mi dici che c'è Io continuo Continuo a cercarlo Ok Ok Mi senti che ce l'ho proprio trovata E va proprio qua Ecco qui Questo Lo frantumiamo e lo mettiamo dentro al sacchetto Questo sacchetto Lo stringiamo bene E lo buttiamo via 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 Adesso Allora Dimmi Quali sono i tuoi buoni propositi Essere anche più gentili con noi stessi Prendersi più cura di noi stessi Dentro e fuori Ok Allora adesso vedo di trovarlo qui in giro Va bene Allora Tu vorresti sentire qualcosa Riesce Oppure lo senti di qua Dimmi anche da segno di qualcosa Ah ecco io Aspetta L'ho preso Ho preso il tuo primo buon proposito E adesso aspetta che Devo fare in modo Devo fare Fare in modo Che penetri bene 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 la tua testa ok Non voglio che spugna No 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 Perché non è lungo Ecco qua Ecco qua E poi E poi Eccone qua un altro E anche questo vediamo di E adesso l'ultimo buon proposito Perché dopo troppo io Non riescevo mai a farli Giusto Quindi Tu senti Eccolo qua Perfetto E adesso Andiamo bene in primo Ecco qua Ecco qua Ok Ok Perfetto E' sì che ci siamo Molto bene Molto bene Molto bene Molto bene Adesso E penso proprio Sia Giunta L'ora Di 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 Par Par L'ellugio Di me è passata proprio tanto E augurare E augurare E augurare E augurare E augurare E augurare Una buona 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 e avere il coraggio, la determinazione, la passione, la costanza per raggiungere il frattuto vi mando un bacione si di i gli i i i i i Tutututututututututututut